Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi ho il grandissimo piacere di presentare un interessante saggio appena pubblicato da Carocci dal titolo Come a Gerusalemme, Reliquie, oggetti sacri e devozione nella Bologna Medievale di Beatrice Borghi, che abbiamo il piacere di ospitare, alla quale io come mia abitudine lascio subito la parola perché sono molto curioso, fra l'altro dopo essere stato mia colpa a vedere Santo Stefano, che non avevo mai visto più di due settimane fa e quindi siamo in pieno argomento bolognese. Prego Beatrice, a te la parola. Benissimo, grazie Maurizio, davvero un piacere ritrovarti, se avessi saputo della tua permanenza a Bologna saremmo andati insieme al complesso di Santo Stefano e grazie a Italia Medievale per questo invito. Mostro subito il volume e la copertina, questa bella iconografia di un manoscritto latino conservato nella biblioteca universitaria di Bologna che racconta di una traslazione di una reliquia di San Petronio e dalla chiesa di Santo Stefano alla chiesa di San Giovanni in Monte. Passando, si vede abbastanza bene un'altra chiesa che ora non c'è più, che è la chiesetta di Santa Tecla. Direi che ho già richiamato alcuni dei soggetti della storia che racconto e indago nel volume. Come hai detto tu, come a Gerusalemme, credo che il sottotitolo sia esemplificativo a quale città ci riferiamo e a quale luogo. Parliamo di Bologna, parliamo del complesso monumentale di Santo Stefano, dunque l'antica Selsina come Gerusalemme e la chiesa di Santo Stefano come il santo sepolcro di Terra Santa. Devo dire che l'interesse verso la Gerusalemme di Bologna mi accompagna da un po' di tempo, direi almeno due decenni circa. Diciamo che mi legano ricerche o meglio tanti, tantissimi interrogativi, direi poche risposte certe alle tante domande, anche perché poche sono le fonti documentarie a noi giunte, diverse le fonti narrative di chi ha scritto su Santo Stefano prevalentemente nei secoli, i monaci, i monaci stefaniani, Benedettini, Celestini, di nuovo appunto la presenza i Benedettini e Olivetani e poi attualmente i francescani. L'approccio alla storia della Basilica del Monastero di Santo Stefano è legato alla storia delle reliquie e dunque al tema del pellegrinaggio, dei sacri pegni e dei suoi reliquiari che puntualmente in appendice sono ricordati a seguito dell'inventariazione che ho fatto abbastanza recentemente e riconsiderata negli ultimi anni e che come dicevo sono ricordati in appendice sia le reliquie che ho collato sia i reliquiari, quindi questi straordinari scrini, opere vere e proprie di orificeria, non posso che ricordare il bellissimo reliquiario di Jacopo Rosseto del 1380 che conserva una reliquia attribuita per l'appunto a San Petronio. Dunque storie di geografie del sacro e di devozionalità e direi anche un approccio che ha visto una stimolante e direi necessaria sinergia con altre discipline, in particolare la geomatica che ha permesso un pool di ricercatori, abbiamo avuto diciamo la possibilità di poter intagare attraverso la geomatica alcune fonti materiali, ovvero di entrare nella profondità della pietra, il riferimento è al bacile, probabilmente Longobardo che si trova attualmente nel cortile cosiddetto di Pilato e come dicevo di restituirci degli interessanti esiti circa l'interpretazione dell'epigrafe che abbraccia appunto il bacile e che ha coinvolto gli studiosi sullo studio dell'epigrafe per tantissimi secoli sicuramente sarà di interesse anche nei decenni, nei secoli successivi che è fortemente legata alla presenza per l'appunto Longobarda a Bologna. Come dicevo recenti acquisizioni scientifiche proprio perché hanno saputo interacciare doverosamente saperi disciplinari diversi che hanno permesso di avanzare nuove ipotesi sull'attribuzione della Santa Gerusalemme Bolognese e che farebbero retrocedere l'attestazione della Gerusalemme di Bologna almeno di un secolo rispetto al documento, alla fonte documentare che noi abbiamo dell'887. Poi casomai entrerò molto brevemente in merito ad alcune date, alcune di queste fonti che sono giunte a noi. Dunque la storia è una storia non secolare, non è una storia milenaria ma possiamo dire che è una storia ultramilenaria. Dunque un viaggio nel tempo che inizia da un tempio dedicato a Isite. Inizia da sette colonie in Marbo che non sono mai state spostate da lì e che risalgono alla fine della secondo secolo e all'inizio del terzo secolo e che noi ancora oggi possiamo ammirare. Una chiesa che è intitolata al protomartire perché un complesso è dedicato al protomartire Stefano quando i riferimenti a Stefano sono davvero pochissime all'interno del complesso stefaniano e quindi ampio spazio dedicato proprio a questa connessione, questo filo rosso tra Iside e Stefano e che ha permesso ovviamente una comparazione con altri sei, con altri sei che sono stati cambiati di uso e adattati al nuovo esigente, chiaramente religiose, e diciamo trasferiti con l'intitolazione a Santo Stefano ma un viaggio che mi ha portato nel bacino euro-mediterraneo fino ad arrivare in Nubia. Dunque itinerari di arte, itinerari di fede, insomma devo dire una storia estremamente ricca e complessa e cerco un attimo di spiegarvi. La chiesa di Santo Stefano in Bologna per la complessità delle sue vicende storiche, anche per il suo alto valore artistico, induce sicuramente un interesse e una curiosità per chiunque si avvicini. Dalle Due Torri, da Porta Ravignana si apre, si svela a noi una via di Santo Stefano che ci ricorda tanto una piazza di Santo Stefano ma non ci sono fonti che attestano che quel luogo si fosse una piazza. Quindi è via di Santo Stefano ma questi palazzi cinquecenteschi abbracciano questo complesso mirabile bellissimo che si svela a noi. Ma anche per lo studioso che tenta di comprendere le costruzioni, le ricostruzioni, i forti anche rimaneggiamenti che sono stati attuati tra l'ottocento e novecento che hanno cambiato anche in parte il volto di questo monumentale edificio. Sette Chiese è il nome che la tradizione popolare attribuisce al complesso di Santo Stefano a cui è stato conferito il titolo di Santa Gerusalemme e appunto le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Questo gruppo di edifici rappresenta una delle più compiute riproduzioni esistenti della chiesa del Santo Sepolcro di Gesuremme il cui impianto sembra risarile a un modello, il modello gerosolimitano di Costantino Monocomo quindi prima metà dell'undicesimo secolo. Per evocare i luoghi sacri della passione di Cristo essi vennero trasportati simbolicamente ed edificati materialmente nella città di Bologna offerte alla venerazione delle genti europee. Quindi la Gerusalemme eretta in Santo Stefano a imitazione dell'insieme degli Ipsissima Loca di Terra Santa. Indagare però l'approccio che appunto attuo diciamo in questo volume è indagare quel passato certamente del complesso di Santo Stefano come gli esiti parziali di matrici, di impronte, di evoluzioni che si sono snodate nel tempo che ha significato porvi al centro, alla vita dell'umanità, alla vita delle generazioni che vi hanno abitato, che hanno creato un legame con la città e con quel luogo e chi oggi vi vive e si confronta quotidianamente. Credo che questo sia importante per costruire un itinerario personale e collettivo per ricostruire la biografia culturale del territorio. Il primo documento scritto che noi abbiamo, che ci è pervenuto, nel quale viene conferito alla chiesa di Santo Stefano l'appelativo di Santa Jerusalem monoglienzi, risale alla fine del IX secolo d.C. Il riferimento è in particolare a un diploma di Carlo III, detto il grosso, risalente all'887 in cui si dà la prima notizia di un Santo Stefano che viene chiamato Santa Gerusalemme. Dunque con ogni probabilità in origine si intese riprodurre simbolicamente la città santa di Gerusalemme per dotare Bologna di luoghi atti ad evocare la passione di Cristo. A rilevare presente la storia del monastero di Santo Stefano è un'altra data che è il 983, per l'appunto a cui risale la prima attestazione scritta dell'esistenza del monastero. È dunque la tradizione che ci fa risalire ai tempi anteriori all'887, la stessa tradizione che attribuisce la fondazione di Santo Stefano a colui che fu vesco di Bologna tra il 431 e il 432 e il 430, cioè San Petronio, che molto tempo dopo, ma tanto tempo dopo ne sarebbe divenuto il patrono principale e di cui si conserverebbe tuttora una parte del corpo in quel prezioso reliquiario conservato nel museo di Santo Stefano e che ricordavo prima di Jacopo Roseto. Si tratta dunque solo di tradizione. Durante sicuramente l'episcopato di Petronio a Bologna sarebbe stata risanata la diocesi e rinnovata nelle opere e nella fete. Sebbene non ne fosse la cattedrale è lecito affermare che questo mirabile complesso di Santo Stefano abbia rappresentato nei tempi il centro ideale di Bologna. Una versione volgare del XIII secolo o dei primissimi anni del secolo successivo, che è un rimaneggiamento di un testo latino andato perduto nel 1164, tra il 1164 e il 1180, ricollega l'origine della storia stefaniana e dell'arrivo delle preziose reliquie a Petronio. Sarebbero state portate da Petronio in questo viaggio che presumibilmente ha effettuato nel 410, recandosi a Gerusalemme, quindi vedendo un impianto ben preciso che c'era in quegli anni a Gerusalemme, recandone appunto reliquie e arricchendo così un luogo, una basilica dedicata al protomartire. Ci sono delle splendide miniature dipinte da Giovanni Battista Cavalletto in due splendidi corali dei primi decenni del XVI secolo conservati nella basilica di San Petronio che raccontano per immagine questo bellissimo viaggio, questo iter che Petronio, il patrono di Bologna, colui che diventerà il patrono di Bologna, fa in Oriente, in particolare a Gerusalemme. Si vede Petronio che assiste all'imbarco di una cassa di reliquie, paga il conduttore di un'altra cassa e partecipa a Cavallo preceduto da Preti e di Anconi ad una processione, ognuno porta ampolle, ampolline e reliquiare che conservano dei sacri pegni. È probabile che la liturgia della stessa via Crucis nata in Siria e Palestina da una tradizione locale molto antica abbia assunto una sua prima forma per così dire stabile e fissa grazie a Petronio nel V secolo. Una disposizione topografica degli eventi che rappresentano la passione di Cristo trovò in nuclei di gemmazioni avvenute in tempi diversi una loro esemplificazione proprio a Bologna. Potremmo asserire che le sette chiese, come la tradizione appunto chiama il complesso, furono un'iniziale fotografia un po' sbiadita con dei contori ancora da definirsi ed un certo risultato del sacro che si andò a definire del tempo, di un'immagine voglio dire di un luogo sul quale si edificò un primo nucleo cultuale che nel tempo accolse più edifici. La stessa strada che conduce al luogo di pellegrinaggio si tradusse in quella strada santuario, in quella via della croce, in quell'itinerario depozionale, in quell'esercizio di meditazione. L'iter, un iter, un viaggio verso il sacro e la sua espressione che sono le reliquie. Dunque i tanti interrogativi, come dicevo, proprio in apertura questa nostra chiacchierata, da dove iniziare per trovare le tracce di quel primo nucleo che poi ha portato successive gemmazioni, moltiplicazioni di chiese, di chiostri, di cripte, da richiamo alla dea, alla divinità, dal vescovo ironio, dai primi crociati che sono andati di ritorno dalla terra santa e quale, diciamo, il pensiero del fondatore, qual è il pensiero del fondatore dietro a questo mirabile simbolismo che avvolge la chiesa ed il monastero. Come dicevo, lo stesso nome che viene dato agli edifici ci induce a riflessioni che sono ancora oggetto di indagini, perché a questo monumento viene dato il nome del protoma Stefano, quando al proprio interno non c'è praticamente nessun riferimento a Stefano. E quindi queste tante domande che insomma alimentano la mia amorevole quotidianità, provo a dare una risposta o quantomeno dell'ipotesi attraverso chiaramente altre fonti materiali importanti quante sono le reliquie, ma anche grazie poi alla sinergia, come dicevo, con altre discipline. Perché grazie alla geomatica, Dipartimento di Ingegneria, è stato realizzato un modello 3D generato da rilievo con scanner a proiezione di luce strutturata dell'epigrafe che avvolge il bacile longobarto e soprattutto per cercare di comprendere ulteriormente quell'epigrafe. In particolare un nesso che è IHB che è stato per la maggior parte interpretato come IHB, ma attraverso questa riproduzione, questo occhio che entra dentro la beta, abbiamo potuto constatare che in realtà quella B era una R e nel tempo è stata manomessa per arrivare a essere una B. Quindi queste analisi geomatiche insomma hanno permesso probabilmente di attribuire quel riferimento a quel vescovo barbato, ai re longobarti, gli utpranto e tepranto che sono richiamate nell'epigrafe anche a sciogliere questo nesso in Jerusalem. E quindi su queste basi che forse si deve probabilmente anche riflettere su quella mimesi topografica dei luoghi stefaniani con i siti della passione di Cristo e con la Palestina. Anche la stessa, e qui insisto molto ovviamente nel volume, la conformazione stessa del terreno situato ad est della città emiliana avvalora l'interesse nella costruzione di una specie di copia dei luoghi santi. In questo modo gli spazi sacri di terra santa che videro le fasi dalla lapidazione del martire Stefano, ma ancora prima gli ultimi momenti della vita di Gesù, dalle valli di Giosa, fatta al giardino del Ghezzemani e monte degli Uvidivi, furono ritrovati in questa peculiare predisposizione topografica, diremo geografia del sacro nel complesso di Santo Stefano a Bologna. In conclusione, riferito proprio all'ambito diciamo della sinergia tra le varie discipline, i prodotti realizzati grazie alla ricerca geomatica sembrano rafforzare l'ipotesi che l'acronimo, appunto, IHB fosse originariamente IHR, quindi Gerusalemme. Dunque supporre che ai tempi dei re Longobardi, Leopranto e Teplanto la chiesa di Santo Stefano fosse già probabilmente chiamata Gerusalemme. Ciò dunque permetterebbe di retrocedere di almeno un secolo, centocinquant'anni per l'esattezza rispetto a quella prima testazione scritta che abbiamo del diploma Carolingio di Carlo III dell'887. Quindi una santa Jerusalem e Bologniansis fino dal VIII secolo. Un'architettura, diciamo, un primo nucleo ovviamente di successive, come ho detto, gemmazioni, costruzioni devozionali che comprendeva precisi riferimenti alla rotonda dell'Anastasis e al Calvario, appunto con l'obiettivo, come abbiamo ricordato più volte, di rappresentare gli edifici più antichi di Gerusalemme e i luoghi santi della Terra Santa. Il sottoticoto, come a Gerusalemme, reliquie, oggetti sacri e devozione nella Bologna Mediovale. Sicuramente, diciamo, la storia delle reliquie è una storia molto importante perché edificazioni, perché trasposizioni di geografie del sacro hanno trovato, diciamo, il terreno fertile in preesistenti luoghi di culto. In questo caso il mio riferimento è al tempio dedicato a Iside, adattandosi, modificandone, cambiandone sicuramente l'uso, adattandosi a esigenze politiche, sociali, esigenze in alcuni casi, insomma, racconto anche economiche e sicuramente religiose della comunità, sapendo creare e ricreare nuovi e rinnovati paesaggi cristiani. Le reliquie non sono solo oggetto, ma sono soggetto della storia cittadina che appunto qui racconto e a livello comparativo con altre storie cittadine che servono memorie millenarie di storie di fede. Ed è, credo, questa la chiave di lettura che propongo in questo saggio, cioè la devozione, la sacralità manifestatosi negli anni con continuità e con intensità, come un fenomeno umano, individuale e collettivo, come parte integrante della vita quotidiana e dell'esistenza stessa e che può indurre a comprendere, aggiungere altri interrogativi, certamente altri tasselli nello svelamento di questo dedalo che è lo dedalo stefaniano. Credo che la più interessante affermazione del culto delle reliquie la troviamo in quelle magistrature tendenzialmente indipendente che sono i comuni italiani e Bologna novera, non solo Bologna ma come del resto molte altre città, i suoi tanti santi protettori. Il legame che peraltro unisce i cittadini, a ricordo di Petronio, è sicuramente molto antico, molto profondo. La tradizione chiama Petroniani proprio questo affetto, questa devozione, questa identità che si è manifestata proprio con questo nome Petroniani, con il quale appunto vengono spesso indicate i cittadini bolognesi, ma non fu sempre così, poiché quel legame, ed è interessantissimo, fu il risultato di un lungo processo politico, religioso, culturale che si è svolto in gran parte nel basso medioevo, in cui prima di prevalere la figura di Petronio, beh insomma è stata accostata a figure come Sant'Ambrogio, a San Pietro, ma poi messo in concorrenza con altri autorevolissimi patroni come San Procolo, come San Floriano, come San Domenico, come San Francesco. L'inventare che ho effettuato delle reliquie attesta alla presenza di 450 sacri peni che sono conservati, quindi ho confrontato il primo inventare, noi è giunto una fonte importantissima, documentare nella storia del compresso di Santo Stefano che è il 1141, confrontandoli con altri tredici inventari. Peraltro assistendo anche in certi momenti a una moltiplicazione dei sacri pegni. Infatti potremmo dire che a dispetto di quanto il concilio di Trento aveva stabilito in merito all'autenticità e alla prudenza nel riconoscimento delle reliquie, nella chiesa di Santo Stefano si assiste proprio in quegli anni ad un fenomeno singolare sicuramente inverso, la moltiplicazione dei resti sacri che ha dato vita a nuovi luoghi, nuove geografie in fondo del sacro all'interno del complesso di Santo Stefano. Quindi rifletto anche diciamo sul fatto di considerare questo pellegrinaggio come un pellegrinaggio minore, un pellegrinaggio minore rispetto a che cosa? Alle vie significative più importanti dei cosiddetti pellegrinaggi maggiori che ci portano a Santiago, di Compostela, Roma o a Gerusalemme. Quando se noi confrontiamo anche diari di pellegrinaggio, fonti narrative interessantissime, molti sono coloro che di fronte, dopo aver fatto un viaggio lunghissimo, aver riscatto la propria vita, penso ad Antonio de Reboldi e due straordinari viaggi che effettua nel XIV secolo, puntualmente descritti arrivano di fronte al Santo Sepolcro e spesso la comparazione è come, non ve lo descrivo perché è esattamente uguale a quello che esiste a Bologna. Quindi l'incontro con la tomba del Santo, con i suoi resti, con le sue reliquie, con i suoi luoghi è un incontro della fisicità con il sacro e con il sovran naturale. È nelle città che le memorie del sacro assumano il loro più alto grado simbolico ed emblematico. È qui che non solo si destinano dei luoghi per custodirli, ma si alimenta l'orgoglio civico con la loro presenza. Ed la comunità cittadina si nutre della consapevolezza di condividere dei riferimenti, dei culti, delle protezioni comune, di poter assumere quel ruolo specifico nell'incontro con altre, altre genti, altre culture, magari ostili, magari lontane, che da altrove giungano pellegrini per venerare i propri santuari o la tomba del Santo Patrono, divene, ritengo, un sugello della propria identità e spunto assolutamente per un dialogo fecondo. Per quanto concerne la storia di Santo Stefano, le tradizioni cittadine della devoluzione popolare che appunto ricordo furono sicuramente lo spirito, le fondamenta dello spirito che animò principalmente i monaci a redigere opere, libretti, cronache, cronachette, inventari, tantissimi inventari, dal 1141 appunto fino ai giorni nostri. Ho ricordato il servo del 1141 come un'operazione straordinaria e eccezionale. In realtà un'altra domanda che ha poi permesso il ritrovamento del corpo il 4 di ottobre del 1141 di Petronio. Si deve considerare un evento di straordinaria eccezionalità. I monaci scoprirono effettivamente la tomba del vescovo bolognese o piuttosto i monaci erano già conoscenza dell'ubicazione dell'arche e quindi di fatto più che di invenzio di ritrovamento noi dobbiamo parlare di rivelazione della tomba e le fonti ci parlano e ci confermano sicuramente questa ultima cosa. Dal 1141 ad oggi le reliquie hanno fatto da sfondo alle vicende della storia di Santo Stefano ma non solo della città di Bologna, sono fonti materiali, simboli, ricordavo della coesione comunitaria e rappresentazione della solidarietà civica e devozionale di tutti, non solo dei bolognesi. Un po' come se lo studio del fenomeno dei pellegrinaggi e delle reliquie non ammettesse la pluralità dei punti di vista perché i sacri peni attestano oggettivamente, oggetti e soggetti, la devozionalità e la sacralità riservata tutti coloro che per millenni giunsero in questo luogo. E su quello spazio si è poi realizzata ovviamente la devozione verso le reliquie che sono sopravvissute ovunque, sempre là anche dove situazioni politiche o cambiamenti sociali cercarono di limitarlo, di ostacolarne il culto. Ecco, antichi viaggi e recenti itinera, insomma questa storia inizia ben prima di Petronio, come appunto parlo, probabilmente da Iside. In sintesi e qui davvero concludo, Maurizio, io penso che nella storia di ogni comunità ci sono luoghi e ci sono momenti che sono così pregnanti, di significati, di valori da costituire, riferimenti ed elementi identitari in cui tutti si possono riconoscere. Cioè si tratta di sedi e si tratta di eventi che hanno avuto o hanno assunto un valore emblematico e sacrale che irradano il loro significato ben oltre il contesto spaziale temporale, divenendo simboli, divenendo gesti permanenti di un'appartenenza comune. Se penso a Bologna, penso a diversi esempi, pensiamo solo ai portici, pensiamo a quella lungimiranza che ha fatto sì che un interesse pubblico e privato si fondessero e trovassero un punto l'incontro per il bene comune. Penso a San Petroni, ma pensiamo al portico di San Luca, il gesto di solidarietà che è legato alla costruzione di quel portico, ma se penso anche a San Domenico, a quel rilievo culturale e religioso che si avvasse proprio di quel connubio tra le sedi laiche e le sedi religiose. Ecco, per Santo Stefano è sicuramente quello spirito civico e unitario che nel nome del santo patrono suggellò la formazione del comune. Beatrice, è interessantissimo. Io fra l'altro ne approfitto perché voglio convincere tutti ad andare a Bologna se non lo hanno già fatto a visitare il complesso di Santo Stefano, perché si troveranno davanti qualcosa di assolutamente unico nel suo genere, nelle sue sovrapposizioni, in tutto ciò che potete trovarci e sarebbe anche molto bello se voi andaste a visitare Santo Stefano con il libro che abbiamo appena presentato e di cui io ricordo il titolo, che è Come a Gerusalemme, reliquie, oggetti sacri e devozione nella Bologna medievale, appena pubblicato da Carocci e ovviamente scritto da Beatrice Borghi, che abbiamo avuto il grandissimo piacere di avere con noi e che io ringrazio tantissimo per questa esposizione. Per me è un grande piacere Maurizio, sono anche disponibilissima per chi vorrà venire a Bologna insomma a incontrarci, insomma a entrare in questo viaggio davvero affascinante e complesso come abbiamo penso inteso, quindi davvero grazie, grazie. A te, a presto. A presto. A presto.